Terza passerella e nuove promesse di intervento per la difesa della costa e per il ripascimento della spiaggia di San Giorgio e di Capocalavà di Gioiosa Marea. Questa volta ad impegnarsi personalmente con interventi celeri e risolutivi dopo la Lobello è stato l'assessore regionale territorio ambiente Maurizio Croce che ieri pomeriggio ha incontrato il sindaco Spinelle e la Giunta per affrontare ancora una volta il problema dell'erosione della spiaggia e le conseguenze su strutture e lavoro danni messi a rischio dalla drastica diminuzione del litorale. Bisognerà attendere, cosa che tra l'altro è già in corso, che si arrivi alla nuova programmazione comunitaria e su quella programmazione comunitaria bisognerà fare la battaglia per avere i fondi e poter procedere celermente a questi interventi. Io dico solo che gli interventi dell'erosione della costa sono importanti, bisogna farli, bisogna farli velocemente ma devono essere veramente supportati da uno studio che non ci consenta che tra 10 anni o tra 15 anni di riavere lo stesso problema. E Gioiosa può avere un rilancio proprio se si pensa ad un'azione sia per quanto riguarda le coste ma anche gli altri problemi importanti che riguardano la depurazione e soprattutto può diventare, rilanciando questo paese, la porta d'ingresso di tutti i nebbridi. E questo deve passare attraverso soprattutto questi interventi. Il primo fra tutti è il mantenimento delle nostre spiagge. Presente all'incontro anche gli operatori turistici di Calavà e i residenti di San Giorgio che hanno esposto all'assessore le loro preoccupazioni e chiesto un aiuto serio e concreto. Speriamo che non venga intrappolato nella burocrazia nel pantano della regione siciliana perché l'assessore sembra motivato e quindi potrebbe essere un ottimo interlocutore per portare avanti queste problematiche sia di San Giorgio sia di Capo Calavà. Grazie a tutti.